Vediamo se funziona. Oh, finalmente siamo live. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, sono Alice Marmieri di Find Your Voice. Mi occupo di personal branding e sono una consulente LinkedIn. Ho ripreso a fare queste live in diretta proprio perché mi faceva piacere condividere quelli che sono gli strumenti per creare un personal brand efficace e chi meglio di Stefano Todeschi che si occupa di come parlare in pubblico per darci gli strumenti giusti per parlare davanti a un'audience. Oggi non parleremo solamente di come parlare in pubblico ma anche come parlare in modo efficace davanti anche a una telecamera perché ormai, lo sappiamo, è un anno che siamo dietro questi schermi e dobbiamo costantemente comunicare in modo efficace davanti a una telecamera. Stefano, benvenuto e grazie tantissimo della disponibilità. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Sono contentissimo di essere qui. Ha fatto molto piacere il tuo invito. Fantastico. Spero che, appunto, avendo avuto qualche problema con l'altro link, purtroppo il bello della diretta è anche avere questi problemi tecnici che ci riusciate a seguire, a prescindere. E se, come al solito, se non riuscite a vederlo in diretta, questo video rimane la registrazione sia sul mio profilo LinkedIn sia sulla pagina di YouTube, sul mio profilo YouTube. Poi sicuramente anche Stefano lo condividerà con i suoi follower. Però siamo qua in diretta, come al solito, proprio per rispondere alle vostre domande. Quindi, a parte la chiacchierata che ci siamo preparati con Stefano in base a quelli che sono un po' i dubbi principali su come parlare in modo efficace davanti a un pubblico, allo stesso modo, ovviamente, siamo qua per voi. E quindi non siate timidi e rispondete alle domande. Stefano, innanzitutto vogliamo iniziare con una brevissima presentazione. Cercheremo di stare, proprio per rispettare il vostro tempo, su una trentina di minuti di intervista. Speriamo di darvi più contenuti e più valore possibile. E raccontaci un po' chi sei e soprattutto dove hai iniziato e cosa ti ha portato qua. Sono allenatore in public speaking, quindi sono formatore e anche consulente in public speaking, che preferisco chiamare parlare in pubblico, meglio ancora parlare e interagire con le persone. Io vengo dal teatro, quindi sono attore, performer e soprattutto regista teatrale. Non mi piace sempre dire che aiuto le persone a farsi ascoltare davvero quando parlano con le persone. ascoltare nel senso che le parole sono fondamentali e soprattutto è fondamentale la propria presenza fisica in relazione con le altre persone. E questo viene dal teatro. Perché il teatro non è quella roba dove si fa solo finta, ma è un'attività in cui le persone si guardano, interagiscono e vivono delle emozioni. E direi che appunto lo spunto delle emozioni è uno degli aspetti secondo me più importanti nel public speaking, ma anche nella comunicazione in generale, perché l'abbiamo sentito tutti, poi anche lo sorgere di quello che è lo storytelling, sempre di più facciamo affidamento su quello che è il suscitare, creare una connessione con le altre persone, quindi suscitare delle emozioni. E quindi partiamo subito da una domanda diretta. Come essere memorabili? Quindi come fare in modo di non solo essere efficaci a veicolare quello che è il nostro messaggio, ma fare in modo che le persone poi non si dimentichino di noi? Le persone non si dimenticano di noi, Alice, quando noi le tocchiamo nelle emozioni, come dicevi tu prima. Non solo nelle emozioni, ma anche nella loro vita. non solo in quello che provano, ma anche in quello che desiderano. Faccio un esempio. Ho lavorato per un cliente che si occupa di prodotti medicali e vende direttamente agli ospedali. e quindi i manager in realtà con cui ha a che fare sono dei medici. E noi sappiamo che i medici fanno molta attenzione alle lettere al direttore. È presente le lettere al direttore Alice dove le persone ringraziano l'equipe medica per le cure prestate, per l'attenzione, ovviamente facendo riferimento a chi? Al primario, medico, dottor, quello che è. Ecco, questo è un riferimento importante per decidere la comunicazione. Cioè, tu è vero che devi vendere un prodotto, è vero che lo devi proporre a un prezzo, ma devi anche dare la possibilità a questa persona di essere socialmente riconosciuta per il suo valore. Se allora tu agganci il tuo interlocutore dicendogli, per esempio, lo faccio molto spiccia, che i suoi pazienti gli riconosceranno la sua competenza e i risultati, e tu lo stai agganciando nei suoi aneliti. Quindi è anche proprio, prestando un po' quella che è l'attenzione e un po' veicolando quella che è l'autorevolezza all'altra persona, che alla fine le persone non si scorderanno di noi. È un po' quello che è il discorso che le persone vogliono, detto in altre parole, sentirsi importanti, quindi essere riconosciuti dall'altra parte. Quindi, se ho capito bene, quello che mi stai dicendo è riconoscere l'autorevolezza e l'importanza dell'altra persona. Sì, perché diventa reciproco. Perché se noi, per voler essere memorabili, diciamo, siamo i leader del mercato, vabbè, sono tutti leader, non si sa chi sia davvero questo qui davanti a tutti, ma comunque siamo i leader, mettiamo che sia anche vero, i leader del mercato. Abbiamo 15 capannoni da 8.000 metri quadri l'uno, esistiamo dal 1955, abbiamo 6 milioni di dipendenti. Vabbè, ho capito. Ma non è questo che ti rende memorabile, perché sono tutti numerini alla fine. Sì, sì, è proprio il contatto diretto con la persona che ti rende memorabile. Ti rende memorabile, prima di tutto, come essere umano che si interfaccia con un altro essere umano. Ecco, perché a questo punto mi hai proprio tirato un ottimo assist, perché uno dei principali problemi nel public speaking è il trovarsi davanti a quella che è un'ampia audience. Di solito, appunto, non in questi ultimi tempi, ma di solito, quello che avviene è che sei tu su un palco, e quindi anche a livello distaccato, perché di solito il palco, ovviamente, ti riporta su un altro livello davanti a una platea che può essere di una decina di persone o 50-100 persone. Quindi c'è anche, ovviamente, una delle paure primordiali che è quella della paura del giudizio. Sei tu davanti a questa platea e hai, appunto, questa sensazione di essere sotto gli occhi di tutti. Come è? Come, appunto, superarla e essere veramente efficace? Quali sono gli strumenti, e quali sono gli elementi da cui consiglieresti di partire? Tu intendi superare la paura di parlare in pubblico? Beh, partiamo da quella. Si cerca di superare la paura per poi essere sempre efficaci in quello che è il messaggio che vogliamo veicolare. Allora, la paura di parlare in pubblico è un mito, artatamente creato. Non è una vera paura. Tecnicamente non lo è, perché la paura è uno stato emotivo dovuto a degli stimoli molto concreti con un supporto anche storico-genetico. Insomma, per esempio, non voglio spaventarti, ma se adesso ti dico che su quella porta c'è una tarantola, dietro di te c'è una tarantola, ecco, questo sì, è uno stimolo che attiva la paura. Quando invece ci troviamo davanti a una platea pensiamo di avere paura, ma non è paura, è uno stato di ansia, agitazione, ansia. Perché? L'hai detto tu. La paura del giudizio, la paura del giudizio, ma non la paura del pubblico. Ma in realtà non è un vero e proprio, non è una vera e propria emozione di paura. Salvo rari casi. Ho visto il filmato di un regista che doveva fare un intervento in pubblico su un palco, è salito sul palco, blocco ed è scappato via. Questo è chiaramente un sintomo di paura, sì, ma sono casi molto rari. Quindi, come superare questo stato d'ansia? Bisogna allenarsi. Bisogna fare delle prove. Bisogna fare. Questo stato d'ansia lo si deve comunque vivere, non proprio annientare, perché tanto non l'annienti, sono reazioni biochimiche. Queste sono reazioni che avvengono. Quindi lo devi vivere. Dici, ma la mia voce trema, lo sentiranno. Primo, è difficile che lo sentano. Secondo, trema la tua voce, sei vivo. Stai provando delle emozioni. Vuol dire che c'è una vicinanza umana tra te e il pubblico. Ma mi tremano le mani, sei vivo, ancora. piuttosto che vedere una persona che è impassibile, comincia a parlare, comincia a dire che bisogna interagire con gli altri, in questo modo, e quindi freddezza, indifferenza. Questo è un essere umano sciapo, insignificante, e non crea vicinanza umana. Vuoi dire la verità? Vuoi dire? Sono molto emozionato di essere qui oggi. Te la sfanghi? È un po' come spurgare una ferita del pus. Si può dire nella diretta sta cosa? Certo. Te la sfanghi e cominci. Perfetto. Quindi in realtà anche in questo caso c'è un po' il riconoscimento di quello che è il tuo status ti aiuta a superarlo e fare il passo successivo. A questo punto, quali sono le tecniche di public speaking o per parlare in pubblico più efficaci? Proprio per fare in modo di convogliare quello che è il tuo messaggio, creare anche quello che è appunto autorevolezza e banalmente non essere neanche noiosi, perché un'altra cosa che avviene spesso a me è successo ovviamente cercando di trovare quello che è un riscontro nel pubblico appena vedi un segnale di noia, distrazione, eccetera inizi magari a farti delle domande. Quindi ovviamente per essere efficaci abbiamo detto sin da subito che è importante suscitare delle emozioni quindi creare una connessione con le persone e anche se sono non siamo in una relazione one to one ma con una platea alla fine probabilmente il foco stesso è il fatto di provare a pensare ad ogni singola persona creare una connessione con ogni singola persona però quali sono appunto in termini pratici quelle che sono le tecniche che consigli di utilizzare? Allora due sono le vie da percorrere la prima è il contenuto partiamo con l'emozione nel senso di agganciare l'interlocutore sulle cose che lo coinvolgono che lo interessano che lo emozionano è la prima cosa dopodiché dobbiamo continuare quindi il contenuto è la prima chiamiamola tecnica è il primo lavoro da fare devo strutturare quindi un intervento che abbia degli alti e bassi da un punto di vista emotivo facciamo un esempio Alice possiamo parlare di personal branding? così semplifichiamo le cose che dici? assolutamente bene allora diciamo che per il personal branding una soluzione potrebbe essere potrebbe essere per esempio mandare dell'email di contenuti ai nostri prospect ai nostri potenziali clienti va bene bene è una buona soluzione quindi sono su sto tenendo su e sto dando una soluzione però purtroppo non è sufficiente fare questo perché se fosse sufficiente e quindi mi buttiamo giù ma come? mi ha appena detto adesso mi dici che non è sufficiente quindi che posso fare? un'altra cosa che possiamo fare è un'interazione attiva attraverso i social ah bene bene quindi andiamo su torniamo su sì però anche questo non è sufficiente eccetera eccetera fino a che a un certo punto non maniamo troppo il camperlaio ma arriviamo alla soluzione è un po' come in un film stiamo raccontando una storia con le peripezie le avventure dell'eroe e quindi teniamo avvinta l'attenzione del pubblico prima tecnica è questa e poi l'altra chiamiamola tecnica è l'espressività e cioè la variazione tonale la variazione di velocità di ritmo velocità dell'eloquio e di ritmo quindi più velocità più pause più rallentamenti in questo momento sto rallentando prima di dire una parola chiave pausa ecco questo rende interessante perché parlare sempre a macchinetta che cosa ti fa venire in mente parlare a macchinetta a me fa venire in mente dimmi se se ti ritrovi Alice mi fa venire in mente quando al liceo a scuola dovevamo dire la lezione eravamo interrogati lo dici se lo dico veloce non si accorge che non la so perché l'insegnante è scemo no? nella nostra mente era scemo non si accorge quindi la dico veloce poi mi vieni sempre quel torrone e sì vabbè però non dobbiamo dire la lezioncina veloce per dimostrare che la sappiamo non è questo chiudo dicendo questo il focus non dobbiamo essere noi per chi ci ascolta ma il messaggio le idee che vogliamo mandare è quello il focus su cui noi che parliamo il pubblico che ascolta stiamo condividendo il momento e la discriminante di tutto chi è? sono io che parlo? no la discriminante è il pubblico come dicevamo prima lo agganciamo sin dall'inizio certo no sono molto contenta che tu sia partita dal contenuto perché spesso e volentieri c'è questa diceria che si dice che in realtà il tutto viene dato il senso del discorso viene dato più dal come si gesticola dal tono di voce che da effettivamente il contenuto stesso che poi ci sono queste statistiche che girano che poi sono anche un po' effettivamente fuorvianti per noi che siamo professionisti di quest'ambito sicuramente io non lo incentivo in nessun modo sia a livello di comunicazione anche social sia a livello di comunicazione ovviamente video quindi mi fa molto piacere che tu sia partito proprio dalla concretezza del contenuto stesso altrimenti parlare di aria fritta anche in modo molto efficace molto persuasivo alla fine non ci aiuta mi piacerebbe approfondire anche alcuni elementi appunto che però sono anche di contorno quindi l'elemento della voce del tono della voce del volume delle pause ho fatto un video anche molto interessante appunto sulle pause e io mi ci rivedo molto in questo discorso perché un po' contrariamente da quello che dicevi rispetto a quello che è il percorso della scuola quindi la paura di dire non la so e quindi la dico veloce a me spesso succedeva di dire qualcosa velocemente per non rubare tempo alle persone quindi il fatto di dire tutto cioè spararla fuori e dire poi quello che rimane rimane ecco grosso errore perché ovviamente il rischio e quello che effettivamente avviene è che rimane effettivamente poco quali sono gli elementi ne abbiamo parlato anche prima noi prima della diretta che possono aiutarci a rendere la nostra comunicazione il nostro contenuto effettivamente più efficace ne abbiamo menzionati prima ma entriamo proprio nel concreto di quelli che sono alcuni esempi riguardo appunto al gesticolare e il volume della voce gesticolare è fondamentale noi lo facciamo c'è questo luogo comune che corrisponde in parte anche a verità noi italiani saremo dei grandi gesticolatori ci sta è vero ed è fondamentale perché ci sono ricerche scientifiche che hanno dimostrato che se noi gesticoliamo chi ci ascolta sembra comprendere meglio il messaggio addirittura anche ricerche scientifiche su bimbi riuscirebbero a svolgere meglio i compiti di matematica e gli incarichi di matematica sì se il docente vi spiega lasciandosi libero di gesticolare quindi questa è la prima cosa gesticoliamo liberamente ma facciamo un esempio prima parlavamo anche del video prima di fare la diretta ora qui abbiamo un video con un'inquadratura verticale più o meno un 4 quinti io devo stare molto attento ad evitare di fare questa cosa cioè uscire dal video perché è importante che le mani si vedano la visione delle mani permette di dare fiducia alla persona noi abbiamo bisogno di vedere le mani perché ancestralmente abbiamo bisogno di sapere che le mani non sono armate e quindi siamo al sicuro tu sei al sicuro con me grazie a questo di questo è fondamentale poi dicevamo le variazioni di tono e qui bisogna allenarsi ti posso dare un giochino che serve per estendere i toni ma nessuno si deve scandalizzare assolutamente poi l'ora che ore sono adesso quasi le 6 e mezza adesso capirete perché dico l'ora ok fai uno sbadiglio Alice sì sì ma si deve sentire Alice te lo faccio io come esempio vai ok facendo questo metti le mani sul petto e cominci ad essere consapevole quindi ti faccio l'esempio poi dopo lo fai tu ma lo possono fare anche le persone che stanno guardando la diretta certo parto con un tono alto e vado giù di tono vuoi provare a fare questa escursione vai ok devi scendere ancora più di tono e andare in questo modo cominciano a vibrare le mani i palmi delle mani cominciano a vibrare perché fai vibrare il petto questo è un modo all'inizio poi lo sbadiglio può avere una corta estensione poi lo estendi sempre di più poi sempre di più e questo ti dà la possibilità di sentirti nei toni i toni alti che sono quelli di quando chiami una persona che sta lontana che sta magari fuori dalla finestra nel palazzo di fronte eh nonna ai toni più bassi quando i toni alti beh quando devo cambiare discorso passiamo adesso all'altro argomento e sono andato su di tono un argomento che a dire il vero ecco una parentetica una relativa a dire il vero vado giù di tono non è poi così non è poi così nuovo senti che sono andato leggermente su di tono a dire il vero non è poi così nuovo ora io sto un po' esagerando ma dobbiamo tanto lavorare sui toni e anche sui volumi il fatto per esempio di avere un microfono ecco io ho questo microfono qua no? questo affare mi permette questo quando fate una video call di andare vicino e di fare l'intimo perché cambio anche il volume della mia voce e di essere un pochino più intimo sto esagerando ma è anche un modo lo faccio davvero con le persone quando voglio creare un'atmosfera diversa avevo letto questo proposito che suggerivano infatti per chi fa tanti video di utilizzare un microfono esterno piuttosto che appunto le cuffiette proprio perché ti permette di fare questo gioco con la voce sì assolutamente allora il problema per esempio delle live ma soprattutto delle video call e dei video meeting qual è? che sono strumenti bellissimi potentissimi che purtroppo per come sono stati progettati tendono ad annullare la naturalezza per esempio su zoom c'è un'opzione che è flegata di default e toglie i rimbombi gli echi e la naturalezza del suono cioè normalizza il suono detto in modo succinto deflegate questa cosa qua perché perché già che lo strumento è un filtro quindi crea distanza c'è distanza fisica e viene creata ancora di più dallo strumento di per sé in più andiamo a togliere riverberi rimbombi e ecchi e la naturalezza del suono affatichiamo l'ascolto quindi evitiamo di utilizzare quanto più possibile questi microfoni in realtà lo sto usando solo come cuffia adesso ma utilizziamo un microfono esterno perché perché mi dà la possibilità muovendomi di dare questo senso di naturalezza e di vicinanza diciamo non è bello perché è più bello il suono pulito vattato ok all'inizio sì ma poi a lungo andare il suono normalizzato affatica l'emotività perché ci rende distanti molti spunti interessanti direi che magari uno appunto non a cui uno non pensa direttamente ecco a questo punto Stefano ti vorrei chiedere concretamente come consiglieresti di andare a organizzare quello che è un discorso per renderlo il più efficace possibile quindi per convogliare quello che è messaggio e lasciare quell'aurea di memorabilità e fare in modo che le persone dopo a parte ricordarsi di te si ricordino di quello che hai detto perché poi il problema magari quando siamo anche a una conferenza le persone ne ascoltano mettiamo 8-10 in una giornata e dobbiamo essere quelli che si portano a casa come fare questo? Sì la prima cosa è abbiamo detto agganciare la persona la possiamo agganciare anche con una domanda possiamo agganciare il pubblico con una domanda quanti di voi quanti di voi indossano biancheria intima tu alzi la mano e vedi quante persone indossano biancheria intima quanti di voi hanno il profilo LinkedIn tu alzi la mano e vedi e già così li rendi anche attivi attivi fisicamente c'è l'attività fisica c'è l'attività mentale beh allora li hai già agganciati comincia a fare questo gioco narrativo delle emozioni cioè te ne do una cotta e una cruta una cotta e una cruta però attenzione non dico già subito qual è la mia tesi per esempio la mia tesi può essere un prodotto un servizio che devo vendere ma non lo dico da subito parlo del problema della necessità potenziale del mio interlocutore o del suo sogno il suo desiderio il suo anelito e tengo verso la fine verso la fine l'idea principale l'idea principale può essere anche la mia tesi sull'inquinamento l'inquinamento si risolve così 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 ma non lo dico subito per un motivo molto semplice due motivi anzi due il primo è che dobbiamo creare suspense attesa e questo lo facciamo attraverso queste montagne russe delle emozioni un altro motivo fondamentale è che se tu espliciti da subito la tua tesi il tuo pubblico si diverterà in guelfi e i ghibellini chi ti appoggia è con te e chi ti odia da subito invece no dobbiamo portare tutte le persone verso la nostra tesi anche chi potenzialmente sappiamo che è probabile che non sarà d'accordo ma noi attraverso i vari argomenti lo dobbiamo portare là lo prendiamo per mano gli facciamo fare un viaggetto una cosa molto importante chi ci ascolta in teoria quasi sempre non sa che cosa stiamo per dire a meno che non facciamo la pedissima replica di qualcosa che abbiamo già detto in un'altra occasione e quelle stesse persone erano presenti non lo sa allora dobbiamo rispettarla dobbiamo rispettare i tempi cognitivi non possiamo correre come un treno dobbiamo lasciare il tempo minimo di ragionare un attimo sui concetti appena mandati ah ma dai sta dicendo e subito le persone tot 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 velocissimamente processano sono d'accordo non sono d'accordo che cosa mi ricordo non troppo perché altrimenti li perdiamo vanno per la tangente vanno per i loro ricordi e le loro emozioni e come fare quindi a posto che appunto non possiamo piacere a tutti e non tutti possono appoggiare la nostra tesi però se abbiamo appunto una audience variegata come facciamo a portarli nella nostra direzione a un po' a sposare quello che diciamo o almeno a volerlo ascoltare beh tu stai un po' accennando l'autorevolezza immagino alla fine un po' perché è un tema che che mi hai l'autorevolezza non è una cosa che decido io che parlo se io non posso dire sono autorevole oppure voglio essere autorevole o come voglio essere un influencer piano fai delle cose comunque poi vediamo se lo sarai allora l'autorevolezza è percepita da parte dell'audience e allora come fare ad essere memorabili li ho già agganciati e devo dare a queste persone qualche cosa che o le emozionerà ancora alla fine perché ho scoperto qualche cosa dell'esistenza della vita dell'umanità che può cambiare per loro qualche cosa nella loro vita oppure darò loro una soluzione utile ma davvero utile e poi alla fine se ti dico una cosa che ti emoziona e che può cambiare il senso della tua vita non è forse utile anche questa assolutamente alla fine quanto pensi cioè quanto deve essere utile quello che è quello che vai a comunicare cioè qual è il bilanciamento tra l'utilità quello che è il nostro messaggio quindi anche a livello informativo rispetto a quello che sono le emozioni che bisogna suscitare cioè devono essere 50 e 50 può prevalere l'uno rispetto all'altro o dipende ovviamente da quello che è il contesto il discorso ma io preferisco non parlare di percentuali sono due cose diverse perché l'emozione è strumentale al messaggio centrale che a sua volta deve avere un'utilità per il pubblico l'emozione è solo strumento ok chiarissimo allora siccome stiamo arrivando alla fine di questa chiacchierata di questa intervista e so che i video tra l'altro sia su YouTube che su LinkedIn sono leggermente indifferita vi chiedo che prima di finire le domande che ho preparato di affrettarvi per lasciare le domande sotto al contenuto in modo che possa porle a Stefano poi noi siamo a disposizione sul nostro profilo LinkedIn quindi se avete bisogno se lo guardate successivamente o se anche a voi processate quello che abbiamo detto e vi vengono domande dopo tranquillamente le potete lasciare in un secondo momento però approfittatene che siamo qua con Stefano per porre la domanda a questo punto Stefano ti chiedo siccome questa è una domanda che è venuta da una lettrice della mia newsletter che chiedeva ovviamente come essere efficaci davanti al video qualcosa l'abbiamo menzionato prima però in quest'anno soprattutto dove ci troviamo spesso a fare delle comunque a intrattenere quelle che sono le nostre relazioni dietro a questo schermo abbiamo perso molto di quello che è il contatto fisico quelli che sono gli elementi che prima dicevi che contraddistinguono una conversazione anche quelli di contesto e è molto più difficile passare quelle che sono le emozioni quindi quali sono i consigli per creare i video efficaci che sia attraverso appunto una telecamera o quello che è uno smartphone sì per prima cosa l'inquadratura il frame come diciamo prima si devono poter vedere le mani e le braccia quindi evitiamo delle inquadrature tipo questa in cui si vede solo la faccia magari si vede un bel pezzo di soffitto e non serve a niente quindi si devono poter vedere bene l'illuminazione è fondamentale evitiamo l'illuminazione frontale perché a parte per noi quattro occhi farebbero i bolli o le luci ma soprattutto appiattisce queste sono le prime cose fondamentali portate pazienza perché avere a che fare con una videocamera è una fatica bestiale ci ho impiegato 15 giorni girare il mio primo video per youtube adesso nel giro dipende dalla lunghezza dai 15 al 20 nel giro di un paio d'ore dipende dalla lunghezza del video anche lì scegliete un argomento scegliete un problema una necessità specifica molto specifica e poi l'affrontate e verso la fine date la vostra risposta dopo aver portato piano piano le persone attraverso il vostro discorso e alla fine date una call to action la chiamata l'azione ma guardate che poi non cambia molto rispetto a un post su linkedin su un articolo alla fine chiede alle persone di fare qualche cosa un consiglio non dite alle persone se vi va di lasciare un commento lasciate un commento stai già ridendo lì succede spesso succede spesso lasciate un commento commenta qui sotto dovete usare l'imperativo perché perché siamo talmente abituati a questo che se non sentiamo l'imperativo nel caso in cui sentissimo il bisogno di commentare difficilmente commenteremo inoltre con il periodo ipotetico cioè se vi va di commentare se ti va di commentare con me già gli mettiamo un problema ma mi va di commentare che già mi hanno tanti e dice no e parla in seconda persona voi meglio ancora tu usa il tu con le persone evita frasi con verbi all'infinito è importante fare questo quindi le forme impersonali è importante fare questo per ottenere questo no è importante che fai questo perché tu ottenga questo se farai questo otterrai quell'altro questo è fondamentale e poi potete utilizzare la camera fissa la camera a mano poi ci sono gli strumenti che oggi possono proprio 60-70 euro si prende uno strumento che stabilizza la camera una tradicità clamorosa è importante l'audio che deve essere naturale deve essere naturale quindi con un po' di eco anche e se l'eco è eccessivo che fate? circondatevi di piumoni non si vedono piumoni coperte le appendete a destra a sinistra come fossero dei tendoni più o meno è l'effetto di un teatro in teatro ci sono le tele proprio anche per questo perché permettono di assorbire il suono interessante grazie Stefano per tutti questi preziosissimi consigli come ultima domanda quindi questo è un'inte perché ci sta seguendo di fare le ultime domande qua sotto ti chiederai ti chiederei qual è il metodo migliore con cui prepararsi a un discorso a un incontro importante in questo caso che sia una video call o che sia comunque un incontro davanti a un pubblico quindi dove c'è comunque una platea con più persone quali sono i tuoi consigli per per prepararsi al meglio allora ci sono due momenti da distinguere uno il momento immediatamente prima dell'intervento vero e poi invece tutto il lasso di tempo che si è avuto prima i giorni precedenti allora i giorni precedenti che si fa si fanno le prove evitiamo di scrivere il percorso riga per riga parola per parola virgola per virgola no no perché se noi partiamo da quello cioè dalla cosiddetta scrittura a tavolino cioè mi metto tavolino scrivo non va bene perché perché quello è un tipo di discorso che va bene per lo scritto nessuno di noi parla si spera parla come scrive vuol dire ci sono persone che parlano anche come scrivono in modo naturale ma tendenzialmente ci piace ascoltare persone che abbiano un tono colloquiale quando stanno parlando poi dipende anche dal contesto ovviamente se un medico internista parla a medici internisti ovviamente utilizzerà una specificità terminologica adeguata alla sua audience ma se un medico internista si mette a parlare non so a te Alice ma a me che non sono medico è opportuno che eviti quel linguaggio specifico e quindi che scenda al mio livello da ignorante in medicina bene quindi preparare 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 provare quindi provare provare e accettare che ci siano delle variazioni durante le prove perché le variazioni non sono seccature anzi il contrario sono idee nuove questo è quello che succede in teatro Alice in teatro funziona così c'è la scrittura di scena nel senso che ci mettiamo lì facciamo delle prove non sappiamo dove andremo a parare e cominciamo a provare a provare a provare e lì saltano fuori una marea di idee e sono quelle più potenti più belle più efficaci più interessanti sono quelle più vicine al pubblico più vere più vive bene arriviamo a ridosso del momento manca un quarto d'ora dieci minuti che si fa il riscaldamento il riscaldamento della voce quindi si riscalda la voce si riscalda quindi si fa un po' di sbariglio come ho fatto prima si fa un po' di massaggio con la lingua si fa un po' di chewing gum e soprattutto se dobbiamo parlare con apertura verso le persone si comincia a recitare una poesia sorridendo sorridendo proprio forzatamente anche e poi puoi fare dei movimenti come questi apriti questo dà la possibilità di apertura fisica e dunque apertura mentale cioè relazionale niente power pose power pose c'è questa famosa TED talk dove consigliano prima di andare sul pubblico anche per una questione di self confidence di trovare delle posizioni adesso non si vedeva però ho messo le mani sui fianchi oppure allargarsi il più possibile nello spazio per un paio di minuti proprio per aumentare quello che è il livello energetico e quindi poi la propria self confidence ci sta assolutamente tutto quello che può essere utile per aprirsi ed essere aperti verso il pubblico e per attivare la propria energia ci sta e qua ci ricolleghiamo con l'inizio della diretta dicevamo ma la paura ma l'emozione ecco allora l'emozione è eccessiva perché c'è uno stato d'ansia eccessivo faccio un'attività fisica di riscaldamento faccio anche questi esercizi faccio altre cose eccetera comincio a reindirizzare questo stato d'ansia verso l'attività fisica quindi momento di sfogo sono invece spentarello un po' sciapino ok mi riattivo un per concludere proprio alla fine sapevo che saremmo andati oltre i 30 minuti però la conversazione è interessantissima quindi andrei avanti per ore uno dei contenuti che condiviso abbastanza di recente e mi ha fatto anche sorridere è il fatto che spesso e volentieri nelle pubblicità quindi magari alla radio eccetera si sente questa voce sorridente costantemente che risulta poco autentica quindi vogliamo affrontare un attimo vuoi accennare un po' quello che è il discorso del sorriso e come utilizzarlo anche in modo autentico e sempre efficace in quella che è comunque il discorso del public speaking noi sorridiamo quando quando sorridiamo Alice in modo naturale quando siamo felici quando siamo sereni quando siamo sereni quando incontriamo una persona che magari è tanto che non incontravamo e ci fa piacere vederla quando concludiamo una sessione e siamo contenti dai è stato bello è stato piacevole è stato un bel momento e ci viene spontaneo sorridere allora perché perché però se dobbiamo presentare un prodotto un servizio cominciamo a fare i seri a calare questo velo di grigiore improvviso come se la serietà fosse autorevolezza e anche qua vedi che siamo noi che cominciamo a pensare devo essere autorevole non salva niente perché poi è il mio interlocutore che deciderà per sé se ti percepirà autorevole quindi la voce del sorriso è fondamentale poi è chiaro che come dicevi prima come nello spot supermercatesco non si può sorridere dall'inizio alla fine perché all'interlocutore viene il dubbio ma stai bene ecco quindi tuttavia è possibile ed è consigliabile tenere un tappeto di luminosità del colore della voce della qualità della voce quindi diciamo io uso questa espressione un po' un paglierino giallo paglierino perché giallo è il colore che Ciro imparato utilizzò per indicare il colore della voce del sorriso quindi un po' di giallino ci deve sempre essere anche per esempio quando dico a una persona fai questa cosa è molto importante perché adesso sto utilizzando una voce delle disposizioni mi raccomando fai questa cosa e fallo prima che sia troppo tardi perché se non ci metto un po' di sorriso dentro attenzione è interno bisogna allenarsi per farlo ma se non ci metto un po' di sorriso dentro il rischio è che esca una voce così e fai questa cosa mi raccomando è molto importante che tu la faccia prima possibile quindi non è il fatto di dire mi raccomando fai questa cosa che è molto importante che sembra un po' anch'io non la farà mai dice ma chi sei joker ok ecco esatto sì 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 assolutamente questo è da abitarsi quello che dobbiamo ottenere è una luminosità della nostra voce perché abbiamo la tendenza ad avere una voce un po' un po' nebbiosa grigia sciappa però questa è la voce che la maggior parte delle persone nella stragrande maggioranza del tempo della propria vita tende ad avere soprattutto nelle sessioni professionali certo perché appena uno pensa a qualcosa di professionale a parte dare immediatamente del lei poi ci si rigidisce proprio alla giacca e cravatta che dici manteniamo a distanza non sorrido non rido non faccio battute non sono me stesso perché altrimenti sia mai che risulti poco autorevole perché sorrido invece perfetto e questo c'è proprio uno spunto che mi hai dato anche riguardo al personal brand perché il motivo stesso per cui c'è questa scesa di questo famoso personal brand è proprio il fatto che le persone non riescono più a connettersi se mai sono riuscite con un brand con un prodotto ma vogliono connettersi con la persona con la sua faccia con quella che è la sua storia le sue emozioni il suo percorso i suoi alti i suoi bassi e quindi lo stesso fatto di creare quell'empatia anche prendersi un po' meno sul serio e appunto sorridere fare battute anche come abbiamo detto prima fare con consapevolezza riconoscere quelli che sono i nostri limiti come sul palco quando siamo agitati crea quella connessione perché ricordiamoci che dall'altra parte ci sono persone se davanti a una platea ce ne saranno tante però sono sempre persone che magari sono state nella tua stessa situazione cinque minuti prima oppure in un altro contesto ecco assolutamente Stefano ti ringrazio tantissimo se non ci sono domande ragazzi vorrei ringraziare anche chi ci ha seguito quindi vedo Carlo Alberto Francesca Marco Anthony davvero grazie di essere stati qua anche Stefano Silvia Filippo Manuela eravate in tantissimi quindi spero che sia stato di vostro interesse come dicevo se avete domande lasciatele qua sotto che saremo felici di rispondere poi ci trovate sia Alice Varmieri che Stefano Todeschi sui nostri profili LinkedIn Stefano non so se è qualcosa da con cui concludere divertitevi 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 quando parlate in pubblico perché se non vi divertite vuol dire che vi siete focalizzati sulla prestazione ma ma chi vi ascolta non viene lì ad ascoltarvi per vedere se siete stati bravi se siete belli se siete carini intelligenti ma non gliene importa niente gli vuoi portare qualcosa di utile è questo il motivo per cui ti ascolto divertitevi fantastico mi piace molto questo ultimo consiglio davvero prezioso grazie mille Stefano grazie a tutti per averci seguiti è stato un piacere e noi ci vediamo con un'altra diretta live settimana prossima sempre mercoledì alle 18 con Danilo Spano e parleremo invece di qualcosa di più creativo quindi come creare la propria identità a livello di personal brand e quindi attraverso tutto il design grafico grazie ancora Stefano e buona serata a tutti buona serata ciao ciao